La Federazione Italiana Rugby ha ovviamente andato aumentando il proprio impegno, la propria vicinanza alla squadra nazionale femminile nel corso del tempo con un'accelerazione negli ultimi anni, un'accelerazione che in parte è dovuta a quello che è il movimento generale del rugby femminile a livello mondiale quindi tutte le squadre hanno accelerato e noi dobbiamo riuscire a starci dietro d'altro canto è anche una questione di equità e di riconoscimento del lavoro che sul campo una squadra fatta da ragazze che non sono professioniste ma che hanno un atteggiamento, un comportamento e delle prestazioni quasi di pari grado rispetto a chi professionista lo è già era in un certo senso dovuto che è la ragione anche per cui in quest'anno di preparazione mondiali gli sforzi della federazione nella vicinanza, nel dare risorse, opportunità e tutta la propria disponibilità a questa squadra sono andate ulteriormente aumentando credo non ci sia mai stato un anno con tanti giorni di raduno, tante possibilità per garantire il benessere delle giocatrici e la loro preparazione a livello fisico, a livello mentale e a livello anche di stare insieme e di creare un gruppo vincente il mondiale del 2002 era un'era geologica diversa, regbisticamente parlando però è ovvio che è sempre un mondiale, quindi se all'epoca le emozioni erano quelle di una giocatrice che peraltro aveva pochissima esperienza, regbisticamente ero molto giovane oggi le emozioni forse sono diverse perché c'è più consapevolezza pur nella diversità del ruolo che ho adesso, adesso sto fuori dal campo, osservo loro cerco di dare loro il mio supporto, all'epoca ero in campo però è evidente che un mondiale rimane un mondiale, avviene ogni 4 anni quindi costituisce un po' il culmine nella preparazione di un atleta e della squadra in cui l'atleta naturalmente gioca ma anche per tutto ciò che gli sta intorno, per lo staff, per la dirigenza, per tutta la governanza federale